del comunale di Bastia, quello tra Bastia e Voluntas Spoleto, una Bastia che trova così la sua prima vittoria stagionale e dall'altra parte c'era una Voluntas Spoleto che era riduce dal successo contro la Pianese e invece ieri cade contro il fanalino di Corabastia Allora noi ce lo andiamo a vedere, questo Bastia-Voluntas Spoleto, il risultato è 3-0 e il servizio di Giacomo Cavarai, vediamo L'anticipo della quindicesima giornata del campionato interregionale di serie di Gironee ha visto qui di fronte al stadio comunale di Bastia i locali in rosso e gli ospiti della Voluntas Spoleto in nero Partiamo subito veloce, dal settimo minuto Bura mette in mezzo, Capitolo nel tentativo di rinviare, colpisce Sasso e la palla finisce in rete per l'1-0 dei locali Non passano nemmeno due minuti e l'Occhi con un preciso esterno destro porta a 2 le reti per il Bastia Al tredicesimo tira a capitolo, Tagliolini respinge sui piedi di Noviello che realizza inutilmente perché la marcatura viene annullata per fuorigioco Al ventesimo su palla da calcio d'angolo ci prova di testa Capitano Cesari, Tagliolini blocca Tre minuti dopo ci sono vivacissime proteste ospiti per un presunto fallo di mani in area bastiola È da rivedere Arriviamo quindi al ventisettesimo quando Noviello dal limite dell'area calcia ma il suo sinistro finisce sul fondo Al ventinovesimo c'è una gran punizione di Cibocchi che Bravini blocca La Voluntas avanta il proprio baricentro La difesa bastiola ed il centrocampo bianco-rosso si accorciano impedendo agli ospiti conclusioni pericolose Al quarantaseiesimo c'è la conclusione di Noviello che finisce sopra la traversa E qui termina un buon primo tempo ben giocato da entrambe le formazioni Con le riprese di Roberto Ragni passiamo alle fasi più interessanti della ripresa Ed il Bastia realizza nemmeno dopo 30 secondi il terzo gol Su cross di Bellucci bianchi tira e nonostante l'intervento di Bravini la palla ricade e supera la linea riporta Al quinto bianchi crossa e bura di testa manca di poco la quarta marcatura Ottavo minuto ci riprova Marchetti, Bravini respinge Poi Belli spedisce alle stelle una discreta palla Nonostante le sostituzioni la Voluntas stenta a riprendersi Mentre il Bastia sulle ali dell'entusiasmo continua ad attaccare Come alle diciannovesimo quando su cross di Locchi Sempre bura di testa impegna Bravini che mette in calcio d'angolo Al venticinquesimo Capitolo mette in mezzo e Di Giuseppe va vicinissimo alla marcatura La Voluntas Poleto cerca con insistenza il gol della bandiera Chiudendo il Bastia nella propria metà campo Ma gli attenti difensori locali non concedono nulla e si ripropongono in contropiede Cinque i minuti di recupero al termine dei quali il Bastia ottiene la sua prima bellissima vittoria della stagione per 3 a 0 sulla Voluntas Poleto Mister Ezio Brevi ma cosa è successo oggi al suo Spoleto dopo le ottime prestazioni delle ultime 3-4 partite Ma si è stati vergognosi E' stata proprio una partita assolutamente da dimenticare E mi metto davanti a tutta la situazione perché probabilmente non sono stato bravo io A tenere una soglia di attenzione sulla settimana Ma da parte di tutti quanti, tutti gli elementi non siamo scesi in campo Siamo partiti dopo 5-6 minuti 2-0 per l'avversario Loro lottavano col coltello fra i denti come giusto che fosse E noi invece non abbiamo fatto prestazione, non abbiamo fatto penso neanche un tiro in porta Quindi ci assumiamo tutte le responsabilità E' normale che in queste condizioni noi abbiamo vita dura E la salvezza diventa una cosa difficilissima da raggiungere Beh era tanto che non si assaporava la gioia di una vittoria Ma a parte la battuta è un'iniezione di fiducia immensa Non dico che era un'ultima spiaggia ma era una vittoria diciamo indispensabile Perché a questo punto della stagione per credere in quello che la squadra dovrebbe fare Senza il risultato positivo sarebbe stata durissima È sicuramente un'ultima spiaggia È sicuramente un'ultima spiaggia